Signori, visto che un video era troppo poco Sti gazzi, ho ne registrato Allora, zi, sto coso che cazzo è? Oggi, aspetta Oh, ora potete vedere che Questo è uno Uno di tanti Ne avrei Che cazzo è? Dio can Tarta Allora, non possiamo regolare così Allora Gii, dove cazzo è l'altro? L'altro coglione Dove cazzo è? Maron Che cazzo sta qua dentro? Chiavi e cacciaviti? I cacciaviti di merda Eh, chi ha capito è bravo No, vabbè Chi ha capito è soltanto uno che sta molto su YouTube Ok, poi Next Next Quanto mi danno? Due mila al mese qua? Netti all'ordi Oh, zi Dove cazzo devo andare? Mo Io non ho ancora capito A che cazzo servono queste Questi cazzo di paletti in mezzo Solo per rompere i coglioni C'hai capito? Diocca Tarta Nooo Che bella la tecnologia che danno a questa parte Dio cazzo di paletti in mezzo Dio cazzo di paletti in mezzo Dio cazzo di paletti in mezzo Io sto guardando da là Perché se no poi vedo un cazzo Dove cazzo è l'altro Ehm Ehm Quella che cazzo sta la pensina? Ehm Ma io non ho capito Se io c'è scrivo C'è tutto Cioè Se io scrivo tutta questa parola Cioè Se io scrivo tutta questa parola Cioè tipo Se io scrivo tutta quella parola Che cazzo succede? Mi danno 3000 euro Vabbè Io dalla serie sti cazzi Senti Io ho questa Io la metto quella Poi Ma dobbiamo andare Perché Il problema non è Prenderli Perché vabbè Tu li prendi Un po' cazzo di cane Toh Il problema è Il problema C'è capito È trovarli Meno male che non è a tempo Sta missione Comunque Ci tengo a Forco Madonna Madonna Puttana Ma Next Poi Che cazzo è sta roba Giornale di Simpsons G Ottieni Che cazzo vuol dire Boh I don't know Come dovrebbero mettere C'è tipo Una Una freccetta Che ti dice Guarda Sta là il prossimo carico Che cazzo Che cazzo ci arriva là Anzi C'è C'è Il problema numero uno È trovarli Più che altro Senti Senti Io faccio Una Io faccio Una Una Bella Cosa C'è Io Io sfrutto Quella telecamera La Se li vedo da qua è bene Se no Senti Non è che sta qua dietro Molto probabile No Allora sono scemo io Che è molto probabile Nessuno esclude niente Non è che mi do A mettere io Cioè chiedo No Che cazzo è l'altro Che cazzo è l'altro Che cazzo è l'altro Che cazzo è l'altro No 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 Capito un cazzo Coddio Scusa Ma Io Io posso fare così C'è Da qua Coddio tu aspetta là e poi lo voglio fare di lavoro meno male che sta con la webcam madonna che palle bello come la porta oh gesù cristo io faccio un bracco ti è non è il buono? no eh cioè capito giustamente io la devo ce l'esemo madonna che palle questi cosi così pesanti e così cioè cioè praticamente fa buono cioè vedi come fa questo è il fatto io non è che voglio dire è mai difficile ho capito mi muove guarda come fa ma un attimo però con calma cioè dammelo per buono porco dio no non me la cresta vado l'avevi preso l'avevi preso ma perché devi rompere le palle l'avevi preso ma perché me lo devi farvi comparire l'avevi preso in un sacco l'avevi preso ma perché ma perché devo perdere mezz'ora per riposizionarlo madonna puttana quella puttanaccia di merda voglio cioè tu tu non me la puoi dare per buono ma fermi fermi per mezz'ora devo stare così praticamente ma ho fatto gli ultimi 4 e mo devo trovare il quinto perché c'è capito tu giustamente non è che devo fare non è che devo trovare la spita cioè tipo che devo ma eh che tipo devo prendere questa R quello eh questo è il quinto mi sai di sì c'è che poi c'è scusa non mi è chiara sta cosa io l'avevo già preso prima vabbè vabbè si era bugata la missione sti grandissimi cazzi però io mo voglio vedere che cazzo succede se io completo c'è tipo la parola questa qua cioè tipo se io c'è tipo se io completo questa parola che cazzo succede mo devo solo trovare la lettera ecco il K mo io posso capire questa cazzo di lettera come cazzo la prendo mo io posso capire come la pensa la lettera cioè pur volendo completare quella scritta io dico tu mi metti questa lettera in me in mezzo a quei cosi di cemento cioè dice cioè dice si sei un cane di merda come cazzo la prendo io la lettera qua come cazzo la prendo io sta lettera pur volendo dire vabbè lo voglio completare come cazzo l'ho completo o quella come cazzo l'ho completo quella cosa se la lettera non la posso prendere perché me l'hai messa in un posto scomodissimo ho capito che c'ho sti cosi però non è che ne posso usare soltanto uno chi lì dice vabbè cioè io non so la madonna puttana sono riuscito a completarlo ma proprio devi avere una precisione porco dio devi avere una cazzo di precisione di è proprio uno stronzo